Francesca Ferretti, una partita che possiamo dire è girata sul 23-20 per busto nel secondo set? È vero, rammarico anche per un primo set un po' sprecato, ma si sa, è una finale questa, succede di tutto e forse anche un po' di emozione. Sì, su 22-20 la svolta e dopo un buon terzo set e un quarto così così diciamo per quello che abbiamo espresso perché possiamo fare veramente molto di più. Però è buono così, è solo la prima, penso che come ha detto anche qualcun altro sarà lunga, abbiamo tempo per migliorare, studiare cosa potremo fare meglio. Quarti di finale facili, semifinale facili per merito vostro, questa però è una finale? No, esatto, hai ragione quello che dici te, sembra quasi scontato che dovevamo vincere, invece abbiamo vinto per merito nostro perché abbiamo giocato bene contro delle signore avversarie. E sappiamo che questa è un'altra signora avversaria che attraverso un momento di forma stupenda, abbiamo visto le partite che ha fatto contro Bergamo e con Eliana. Quindi massimo rispetto e sappiamo che non molleranno mai e infatti abbiamo visto che sono sempre lì a prenderci e cercare di portare a casa il set e la partita. Grazie.